C'è una dritta? Io pello C'è una dritta E volevo chiedervi un piccolo aiuto Ieri sera, ovvero sabato 15 Mi è stata robata la bicicletta Marina di Cecina La bicicletta essendo vecchia non ha un grande valore monetario Ma ci tengo particolarmente Perché ce l'ho da molto tempo Quindi vi lascio le foto, magari fate gli screenshot Se qualcuno la vede, se mi può scrivere su Instagram O nei commenti, mi farebbe un grandissimo piacere Vi ringrazio in partenza e vi lascio al video C'è una dritta Io pello No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sempre in fila, nemmeno gli indiani Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Mi si è smontato il casco Speriamo di arrivare almeno a Casale È partito? Speriamo di arrivare al canale Speriamo di arrivare al canale Quarta, banco, matto attiva con operatore Ma vaffanculo via Se mi fermo non è colpa mia Speriamo di arrivare al canale Speriamo di arrivare al canale No, se no gli esce l'olio e la benzina Non ci cadere però Non c'era già da prima Non c'era già da prima Non so Uh, traversi con un Liberty 50Hz La freccia E' da mettere il potente che gli si sposta il cavalletto a questo libero Si è iniziato Devi fare questo Da fermo in equilibrio Tieni il freno e dando gas Appena lasci il freno dai la botta Mua avevo levato la mano dal freno Fami un po' con quello di sassi Oh coglione scende un po' Coglione Dimmi No lui c'è il mio No c'è il mio Coglione 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 come la mamma dove l'ha fregato, dove l'ha fregato che coglione, che coglione basta basta, questo è un coglione, porco di ho fatto di stop via io vado, ci vediamo per oggi, adios a presto a presto a presto a presto a presto a presto a presto